MISTER CRAB! Che cos'è tutto questo fracasso? C'è un riccio di mare in cucina! Non diciamo sciocchezze! Il Krusty Krab è da sempre un esempio di pulizia per i fast food! Un riccio di mare non oserebbe mai mettere una spina nel nostro... La griglia sta ancora funzionando... Dico bene? Ecco l'ho visto! Adesso lo prendo! L'ho preso! Fermo, dove sei? Bruta bestiaccia, Spinos! No, 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 no! Squiddy, non lasciarlo entrare in sala da pranzo! Sei l'ultima linea di difesa! Ci penso io! È una cosa davvero disgustosa! Non si può mettere tutto quel ketchup in un Krabby Patty? To per sentirmi male! Abbiamo corso un bel rischio Però non si è accorto nessuno di quel riccio di mare Riccio di mare?